Torna a salire la preoccupazione per la sorte di Michael Schumacher, che da quasi un mese e mezzo è ricoverato in coma a Grenoble dopo una caduta sugli sci. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il sette volte campione del mondo avrebbe contratto un'infezione polmonare che sta richiedendo una cura di antibiotici. Non si sa se il processo di risveglio sia stato interrotto a causa di questo, scrive la Bild, la cui indiscrezione non trova conferme né dall'ospedale né dalla famiglia. L'unica reazione ufficiale arriva dalla portavoce storica di Schumi, Sabine Kem, che ha ripetuto «Non commentiamo le speculazioni». Il giornale riporta che l'ex pilota Ferrari avrebbe contratto l'infezione polmonare in seguito al risveglio artificiale dal coma e che l'equipe che lo sta seguendo passo passo avrebbe deciso di trattarlo con potenti antibiotici. Interpellato da Bild, il medico tedesco ha spiegato che nei pazienti in terapia intensiva le difese immunitarie sono indebolite, quindi una polmonite può, nel peggiore dei casi, portare al collasso di diversi organi e alla morte. Una cosa comunque è certa, assicura l'esperto, Schumi non soffre, dato che gli vengono somministrati antidolorifici e calmanti.